www.pubb.com ha pubblicato una foto mia della mamma sul book ma quello book? facebook è una social network ma ci capite mamma già preoccupata ma che devi preoccupare? ho trovato tutti i guadoni sta sempre con quello cazzo, se i computer capo volessi sapere ma che cazzo devi scrivere? che scrive? scrive i cazzo suoi ma poi guardano tutto quanto tutto quello che sono amici e invece faccio sparire questo computer così vediamo se la finisce non ne troveri in dei libri storie che stivica storie promessa chi parte e chi resta storie che io so guardavitare da una finestra sient'amica ora è una piazza bella sient'amica la gente dice che Amari non è mai arrivato che l'hanno fondata per scrivere canzone che sta chi dice che una volta l'ha incontrato era nera nera che ha parlato a rive male sient'amica sient'amica ma che è questa canzone? è troppo moderna per me ma tu sei tu che sei antica? e che ti ha giurito? è troppo moderna per me no? comunque secondo me stiamo facendo una struzzata era meglio che Don Pietro ci parlava col conto no? starà cantando una canzone americana forse sta cantando solo miei secondi chiane Maria tu sta, Maria che fa Maria... ti piace eh? Mari con questa, Mari con chi sta si accorda o si ricorda di me Maria yeah, yeah, sient'amica